Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete detto al titolo, vi parlerò di una novità in allevamento. Questa novità riguarda le quaglie Celadon. Le quaglie Celadon, adesso andremo a vedere bene nel dettaglio che cosa sono, diciamo, quelle caratteristiche hanno. Però, prima, vorrei riprendere il discorso fino a un po' di mesi fa, dove in un video vi ho mostrato, e ve lo lascio anche qui, le mie quaglie Jumbo. Per quanto riguarda le quaglie Jumbo, c'è la quaglia japonica, è una quaglia con diverse colorazioni e poi di solito ha comunque una corporatura che è buona, diciamo, sia per la produzione di uova che anche ha buona massa a livello di carne e muscolatura. Però, diciamo, ha comunque, come molti di voi sicuramente già conoscete, ma comunque vi lascio il video qui, quindi nel caso lo potete vedere, poi per vederne nel dettaglio dove ne parlo, ha comunque la caratteristica che depone le uova, come un po' tutela e selvaggina, che sono su un fondo bianco o un bianco sporco e poi delle macchioline di marrone. E la caratteristica già delle quaglie Jumbo è che già esistono tante diverse colorazioni, quindi magari è un pochino diversa dalla quaglia che si conosce di solito per le grandi, diciamo, deposizioni o produzioni. Ehm, però, dopo, diciamo, 3-4 anni che le allevavo, queste quaglie, ho deciso di voler cambiare, anche se poi non ho proprio cambiato specie, semplicemente ho, diciamo, presso una selezione diversa della quaglia japonica, cioè le quaglie Celadon. Le quaglie Celadon sono una selezione che, diciamo, è stata selezionata principalmente all'estero durante questi anni. Ho visto per diversi anni video, diciamo, anche di allevamenti in America, che le allevavano, diciamo, anche lì per le Rainbow Eggs, cioè le uova colorate, colorare col baleno. E quindi era già un po' di tempo che le cercavo e poi quest'anno sono riuscito a trovare un contatto in Italia che le allevava da un po' e sono riuscito a procurarmi le uova. Infatti, oggi, mentre vi parlerò di questa, diciamo, nuova avventura, vedrete in sovrappressione tutti i video, sia di quando è incubato, di quando sono nati, per tutta la crescita, e poi vi lascerò anche delle clip di ora. Infatti, questa vogliera alle mie spalle è il posto dove si trovano adesso. Quindi, queste quaglie Celadon hanno una colorazione, diverse colorazioni come le japoniche, che poi possono essere sempre selezionate. Quindi, semplicemente, la caratteristica che hanno è il colore delle uova che depongono, in più, a differenza delle jumbo classiche. E quindi depongono uova su un colore azzurrino verde acqua, che questo si è ottenuto con il frutto di selezione in anni e anni. E quindi, ho voluto prendere loro così da poter continuare la selezione sia per le colorazioni, come già facevo per le quaglie jumbo, ma avere anche una caratteristica in più, magari, di uova più particolari. E anche per vedere se c'era anche una differenza a livello di, anche sapori. Perché mi piace anche molto osservare anche le differenze di sapori, in base all'alimentazione, tra tutti i vari animali che allevo. Quindi, ragazzi, adesso, in questo momento, allevo solo quaglie celadon e il vecchio ceppo di quaglie jumbo. Le ho cedute a una persona che era interessata e quindi ho deciso di adesso concentrarmi principalmente sulle celadon. Questo è anche perché a me piace comunque allevarli con il massimo delle possibilità, ovviamente, in base al luogo dove siamo, quindi garantendo gli ambienti adatti, e anche spazi adatti, anche un pochino, diciamo, degli ambienti allestiti in modo tale che possano stare il più tranquillo possibile e non abbiano nessun tipo di stress. Quindi, come poi adesso vedrete anche dalle clip, ho voluto fare un allestimento a una voliera e quindi per ora mi sto concentrando soprattutto sulle quaglie celadon. Poi può essere che nei prossimi mesi vedrete anche arrivare, diciamo, altre tipologie di quaglie o che comunque aumenterò il numero e mi concentrerò anche su altre colorazioni o altre caratteristiche di questi animali. Quindi iniziamo a raccontare, diciamo, tutte le varie fasi dell'inizio dell'allevamento di questi animali. Ragazzi, come vi ho detto prima, vedrete delle immagini in sovrappressione per gli animali e mi dispiace che non posso registrare il video all'interno, diciamo, del posto dove li allevo, ma comunque sono animali che fanno parte un pochino della selvaggine e quindi sono un pochino più resti agli umani, si spaventano più facilmente e in più sono anche molto più piccoli rispetto agli umani, quindi si spaventano più facilmente e in più, comunque anche volendo, adesso in questo momento sono in una voliera che è rialzata e ha un'altezza dove io non posso stare all'interno, quindi la gestisco da fuori e come vedrete adesso anche dalle clip, e quindi ho deciso di parlarvi con degli sfondi comunque di dove ti trovo nell'allevamento e poi vedrete le immagini in sovrappressione degli animali. Comunque iniziamo a parlare di come è iniziato questo iniziativa, diciamo, questo allevare per le quali c'è la donna. Come vi ho detto prima, ho trovato un allevamento in Italia e mi sono fatto inviare le uova, che poi ho fatto riposare per 24 ore e poi le ho incubate. Come se per chi non lo sapesse, le quali hanno un giorno, diciamo, impiegano 17 giorni dal momento in cui vengono incubate le uova per poi schiudere. e quindi per 17 giorni ho tenuto queste uova nell'incubatrice, ho fatto la speratura e una decina di uova su una ventina, diciamo, circa di uova, quindi 10 erano fecondate e con gli embrioni dentro. Poi nella schiusa ci sono stati 7 nati di cui adesso ne ho 6 in allevamento. Quindi in realtà il risultato è stato ottimo perché ho avuto comunque animali di diverse colorazioni già da nati, anche se poi in futuro nelle diverse, diciamo, generazioni sarebbe uscito il colore di tutte le selezioni. Però già in questa schiusa ho avuto diversi animali con diverse colorazioni quindi ho già potuto notare la bellezza di questi animali. E comunque è andata molto bene come schiusa, nonostante comunque il periodo in cui mi trovavo perché l'allevamento mi aveva già informato e io ne ero al corrente che comunque ho incubato in un periodo in cui era circa giugno e quindi già le temperature erano abbastanza alte. Però ne ero consapevole di questo e comunque ho voluto lo stesso fare questa incubata e comunque il risultato è da considerare abbastanza ottimo. Date anche le ore di spedizione dal nord Italia fino a qui dove io mi trovo in Abruzzo diciamo comunque il risultato è molto buono. Quindi poi ho tenuto, ho cresciuto le quagliette dentro una pulcinaia per alcune settimane aspettando che poi si impiumassero. Quindi una pulcinaia riscaldata, ho fornito un'alimentazione per selvaggina e ogni tanto davo anche comunque un pochino di insetti invertebrati per quanto riguarda, perché fanno parte della selvaggina quindi per rendere l'alimentazione di questi animali il più possibile proteica nella crescita e quindi poi li ho cresciuti così fino a circa un mese di vita dove poi una volta che erano impiumati li ho trasferiti nella voliera che, diciamo questa voliera rialzata che ho un pochino allestito con un po' di ramoscelli, fiene eccetera per farli avere un ambiente il più diciamo tranquillo dove possono avere nascondigli, luoghi abbastanza tranquilli e quindi adesso poi stanno crescendo adesso in questi giorni sto riuscendo a vedere i primi animali esemplari per dividerli in maschi e femmine e quindi poi vedrete anche in un prossimo video dove vi mostrerò nel dettaglio tutti gli animali per dirvi quali sono maschi e quali sono femmine e aspetteremo anche il momento della deposizione per vedere le uova anche deposite da questi animali anche se poi già li abbiamo visti durante il periodo di quando mi sono arrivate le uova da schiudere spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto se è così potete farmelo sapere lasciando un mi piace qui sotto e lasciando anche un commento se avete delle curiosità a cui vi risponderò un prossimo video vi risponderò qui sotto commentando potete iscrivere e attivare la campanellina per vedere tutti i miei prossimi video presto uscirà un video nel dettaglio comunque adesso degli animali adulti quando inizieranno la deposizione vi mostrerò il tutto perché le quaglie circa iniziano la deposizione dai due mesi di vita ai tre mesi di vita quindi comunque vi mostrerò tutto come procede potete seguirmi anche sul mio profilo instagram chioccio le galline ornamentali dove mostro dei post nel dettaglio degli animali e vi aggiorno giornalmente per l'uscita dei video o eventi riguardanti l'agricoltura e niente da me l'allevamento e le quaglie c'è la donna è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti